L'espressione guerra fredda indica la contrapposizione ideologica, politica e militare che si viene a creare intorno al 1947 tra le due maggiori potenze vincitrici della seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica. Questa contrapposizione porterà alla formazione di blocchi internazionali ostili, il primo composto dagli Stati Uniti, dai paesi facenti parte della NATO e dalle nazioni filo-statunitensi, e il secondo formato dall'Unione Sovietica, dalle nazioni facenti parte del patto di Varsavia e dai paesi filo-sovietici. Ricordiamo che il patto di Varsavia, il cui nome ufficiale è Trattato di Amicizia, Cooperazione e Mutua Assistenza, è stata un'alleanza militare tra i paesi filo-sovietici nata nel 1955 come contrapposizione all'organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, conosciuta con l'acronimo NATO, fondata nel 1949, quindi sei anni prima. Facevano parte del patto di Varsavia l'Albania fino al 1968, la Bulgaria, la Cecoslovacchia, la Germania Est a partire dal 1956, la Polonia, la Romania, l'Ungheria e l'Unione Sovietica. I paesi fondatori della NATO sono invece Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti. Esistono poi i cosiddetti paesi non allineati che nel 1961 fondano il NAM, acronimo di Movimento dei Paesi non allineati. Un'organizzazione nata con il fine di proteggere le nazioni che non intendono schierarsi né con gli Stati Uniti né con l'Unione Sovietica. Membri principali furono l'India, l'Egitto, il Brasile e per un certo periodo la Cina. L'espressione guerra fredda viene usata per la prima volta nel 1945 dallo scrittore britannico George Orwell, dal pseudonimo di Eric Arthur Blair, nato nel 1903 e morto nel 1950, che riflettendo sulle potenziali conseguenze dell'uso di armi nucleari nei conflitti tra nazioni, anticipa uno scenario in cui le due grandi potenze, non potendo affrontarsi direttamente per via della certezza della distruzione completa di entrambe, avrebbero finito con il dominare e opprimere tutti gli altri Stati. Nel 1947 l'espressione viene poi ripresa dal consigliere presidenziale Bernard Baruch e dal giornalista Walter Lippmann per descrivere l'emergere delle tensioni tra i due ex alleati. Per quanto riguarda il contesto storico in cui nasce questo fenomeno facciamo notare che il secondo conflitto mondiale mette in gravissima crisi le economie degli Stati europei, portando all'affermazione di Stati Uniti e Unione Sovietica come potenze mondiali. Ma mentre gli Stati Uniti si trovano in una situazione economica florida, anche perché le battaglie non hanno toccato direttamente il suo territorio, l'Unione Sovietica invece è molto provata dalla guerra. Tra le due grandi potenze, non più legate dalla lotta al comune nemico nazista, emergono profonde diversità sia dal punto di vista economico sia nel modo di intendere la società e il suo sviluppo. Da un lato abbiamo infatti il capitalismo americano e occidentale e dall'altro il comunismo sovietico. Sarà proprio la convinzione da parte di entrambe le potenze della superiorità del proprio modello economico e sociale che porterà a una loro netta contrapposizione. La tensione tra le due potenze emerge già a partire dal 1946 con Stalin che in alcuni suoi discorsi parla di un mondo diviso tra capitalismo e comunismo. due modi di pensare completamente diversi e perciò destinati a scontrarsi. Celebre diventerà poi l'espressione del primo ministro britannico Winston Churchill che parlerà di una cortina di ferro che divide l'Europa in un blocco occidentale e uno orientale. Citiamo dal suo discorso, Ricordiamo che la parola cortina è sinonimo di tenda. Il funzionario americano George Kennan, ritenendo che i sovietici puntassero a una futura espansione in Europa, conia quella che passerà alla storia come teoria del containment, nel senso della necessità di tutelare gli interessi e il modello di sviluppo americano nel mondo contenendo la diffusione del comunismo all'interno dei confini dell'Unione Sovietica. Negli anni tra la fine della Seconda Guerra Mondiale, il 1950, principalmente attraverso metodi autoritari, Stalin impone la creazione di governi comunisti in Polonia, Romania, Bulgaria, Cicoslovacchia e Ungheria. Nel 1948 la Jugoslavia di Tito si oppone a questo tentativo, rivendicando il proprio ruolo di forza nazionale protagonista della resistenza partigiana all'occupazione nazista. E' questo un duro colpo per il progetto sovietico e da quel momento la Jugoslavia porterà avanti un atteggiamento di equidistanza tra i due blocchi che vanno formandosi. Tito sarà infatti uno dei fondatori del 1961 del già menzionato NAM. Questi anni sono anche segnati da un progressivo impegno statunitense in Europa, sempre al fine di arginare l'espansionismo comunista. Nel giugno del 1947 infatti gli Stati Uniti lanciano lo European Recovery Program, altrimenti noto come Piano Marshall, che prevede la concessione di aiuti economici ai paesi europei per la ricostruzione post bellica e il supporto nella creazione di un mercato europeo. Anche l'Unione Sovietica viene invitata ad aderire al piano ma preferisce declinare l'offerta e opporsi a esso, ritenendolo uno strumento dell'imperialismo americano. Il più importante terreno di confronto tra le due grandi potenze diventa la Germania. Già nel giugno del 1948 infatti gli occupanti del settore occidentale, quindi inglesi, francesi e americani, unificano le loro fette di territorio e iniziano a farvi circolare una moneta unica in vista della creazione di uno stato tedesco autonomo. L'Unione Sovietica, che occupa il settore tedesco di cui fa parte Berlino, città divisa a sua volta in quattro settori appartenenti anch'essi a inglesi, francesi, americani e russi, reagisce con il blocco delle vie di accesso alla città che durerà fino al maggio del 1949 e che costituisce la prima grande contrapposizione diretta tra le potenze della guerra fredda. Ricordiamo che il blocco delle vie d'accesso a Berlino dà vita al cosiddetto ponte aereo da parte delle forze occidentali, che riforniscono via aerea gli abitanti delle tre aree di Berlino sotto il loro controllo. Negli undici mesi del blocco di Berlino le forze aeree occidentali effettueranno 277.500 voli e 73 aviatori perderanno la vita in missione. Pochi mesi dopo la fine del blocco nasce la Repubblica federale tedesca nel settore occidentale seguita dalla Repubblica democratica tedesca in quello sovietico. La minaccia dell'espansionismo sovietico porta gli stati occidentali a cercare un'alleanza sul piano militare. Il 4 aprile del 1949 nasce così la NATO, come abbiamo già detto a cronimo di North Atlantic Treaty Organization, un'alleanza internazionale il cui articolo fondamentale il numero 5 recita. Le parti concordano che un attacco armato contro una o più di esse deve essere considerato come un attacco contro tutte e di conseguenza concordano che ognuna di esse assisterà la parte o le parti attaccate prendendo immediatamente tutte le azioni che ritiene necessarie, incluso l'uso della forza armata per ripristinare e mantenere la sicurezza dell'area nord-atlantica. Fine della citazione. Lo stesso 1949 si chiude con due eventi che aumentano ancora di più le preoccupazioni del mondo occidentale verso il fenomeno comunista. In agosto l'Unione Sovietica testa con successo la bomba atomica, ponendo fine all'egemonia degli Stati Uniti nel possesso dell'arma nucleare. E in ottobre, con la vittoria di Mao, viene proclamata la Repubblica Popolare Cinese che stipula subito accordi con la Russia. Gli Stati Uniti reagiscono predisponendo a un forte aumento degli investimenti nel settore della difesa per finanziare sia un incremento del numero delle truppe, sia un programma per la creazione della bomba all'idrogeno. Il 25 giugno del 1950, l'esercito dello Stato comunista della Corea del Nord invade la Corea del Sud, a regime non comunista. Sul mandato ONU, gli Stati Uniti intervengono militarmente, mentre Cina e Unione Sovietica appoggiano non ufficialmente la Corea del Nord. Nel 1953 si giunge a un armistizio che di fatto ripristina la situazione iniziale. La guerra di Corea spinge il presidente americano Truman a insistere sulla strada del riarmo e ad aumentare l'impegno militare in Europa. Nonostante ciò, le forze NATO presenti in Europa sono inferiori a quelle dell'esercito sovietico e dei suoi stati satellite. Per questo motivo, nei primi anni 50, si cerca di perseguire una politica volta a riarmare la Repubblica Federale Tedesca, quindi la Germania dell'Ovest, affinché essa contribuisca alla difesa europea. Il progetto però fallisce soprattutto per via della diffidenza della Francia verso il vicino tedesco. Si opterà infine per consentire a riarmo tedesco nel 1955 facendo entrare la Germania nella NATO, cosa che avrebbe scongiurato ogni velleità aggressiva da parte dei tedeschi e che coincide di fatto con la fine dell'occupazione dei suoi territori da parte delle tre potenze vincitrici. L'Unione Sovietica risponde a questi eventi con la stipula sempre nel 1955 del già menzionato patto di Varsavia. In questi stessi anni avvengono importanti cambiamenti al vertice delle due grandi potenze. Nel 1953 Stalin muore e gli succede Gregori Malenkov e poi nel 1955 Nikita Khrushchev. Negli Stati Uniti Truman termina il suo mandato lasciando il posto al generale Dwight Eisenhower. I nuovi leader danno il via a un periodo di disgelo in cui dal punto di vista degli armamenti entrambe le parti mettono in atto una politica di difesa caratterizzata da una diminuzione della spesa e dall'uso del deterrente nucleare per scongiurare eventuali conflitti. Significativo in questo senso il discorso di Khrushchev nel ventesimo congresso del Partito Comunista Sovietico del febbraio del 1956 in cui difende la nuova politica di coesistenza pacifica con l'Occidente e condanna apertamente i crimini di Stalin. Inoltre nei mesi successivi promuove una distensione con Tito e una maggiore libertà per i governi comunisti degli stati satelliti. Questa apertura provoca però gravi sommovimenti antisovietici in Polonia nel giugno del 1956 e in Ungheria nell'ottobre dello stesso anno. Mentre in Polonia la crisi viene risolta con un cambio ai vertici del governo, in Ungheria Khrushchev decide per la soluzione militare provocando un forte sdegno anche tra i suoi sostenitori occidentali. A partire dagli anni 50 le due grandi potenze si trovano a giocare un ruolo fondamentale anche nelle periferie del mondo, non tramite una politica coloniale ma per mezzo dell'appoggio politico a diversi governi al fine di allargare la propria sfera di influenza. In questo ambito sono significativi gli avvenimenti in Medio Oriente con il crescere della tensione tra i paesi arabi e il neonato stato di Israele. La sfida fra Stati Uniti e Unione Sovietica si estende anche al settore tecnologico che per ragioni propagandistiche indirizza principalmente i suoi sforzi alla conquista dello spazio. Nel 1957 la Russia lancia lo Sputnik, il suo primo satellite, che anticipa di un anno il primo lancio statunitense. La propaganda di Khrushchev genera negli Stati Uniti l'errata idea che in questo settore vi sia un forte gap a proprio sfavore, tema sul quale John Fitzgerald Kennedy basa la sua campagna elettorale diventando presidente nel 1961. Otto anni dopo, il 20 luglio del 1969, l'astronauta statunitense Neil Armstrong, comandante della missione Apollo 11, è il primo essere umano a camminare sulla superficie lunare. Dopo gli sbarchi del programma Apollo, l'ultimo avvenuto il 14 dicembre del 1972 con la missione Apollo 17, entrambe le superpotenze perdono lentamente interesse alla corsa alla Luna, soprattutto per i limitati vantaggi paragonati agli altissimi costi delle missioni. Parallelamente, sul tema degli armamenti nucleari si verificano alcune fratture all'interno dei due blocchi contrapposti. Tra la metà degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 si assiste infatti al deterioramento e infine alla rottura dei rapporti tra Cina e Unione Sovieti. Mentre sul fronte occidentale è la Francia di De Gaulle a mettere in discussione la politica statunitense dotandosi di un proprio arsenale nucleare. Sempre nel decennio 1950-1960 accadono due episodi che mettono fortemente in crisi gli equilibri internazionali. Il primo è la crisi di Berlino scatenata da Khrushchev nel 1958 al fine di fermare il processo di rafforzamento della Repubblica federale tedesca. Il 12 agosto del 1961 la crisi culmina con l'inizio della costruzione del muro di Berlino, che circonderà completamente le zone della città non appartenenti all'Unione Sovietica con lo scopo di evitare la fuga degli abitanti della Germania Est verso la Germania Ovest. Il muro di Berlino diventerà presto il simbolo più vivido della guerra fredda. Il secondo grave episodio è quello di Cuba, dove gli Stati Uniti, intimoriti dall'avvicinamento del regime di Castro all'Unione Sovietica, tentano prima un'azione militare sotto copertura con lo sbarco alla Baglia dei Porci nell'aprile del 1961 e poi, dopo aver scoperto la presenza di missili sovietici sul territorio dell'isola, attuano un blocco navale per imporre lo smantellamento degli armamenti. La crisi, che porta nuovamente il mondo intero sull'orlo di una guerra, si risolve per il meglio dopo alcuni giorni. A seguito di questi avvenimenti, che rappresentano il periodo di massima tensione della guerra fredda, nasce il cosiddetto telefono rosso, una linea di comunicazione diretta tra il Cremlino e la Casa Bianca al fine di prevenire ulteriori incidenti. Altro evento significativo della guerra fredda in questi anni è la guerra del Vietnam, che vede la partecipazione degli Stati Uniti con ingenti forze a partire dal 1962. Ricordiamo che il Vietnam nel 1954 era stato diviso in due sulla linea del diciassettesimo parallelo dopo la sconfitta subita dalla Francia nella guerra d'Indocina, a opera dei comunisti Viet Minh, che ottengono la giurisdizione nella parte nord del paese. Negli anni successivi i comunisti scatenano una guerriglia contro il governo autoritario filo statunitense che si era formato nel sud del paese, conflitto nel quale intervengono gli Stati Uniti al fine di scongiurare il diffondersi di regimi comunisti, soprattutto in considerazione della vittoria maoista in Cina. Nell'ottica della guerra fredda, il conflitto regionale vietnamita assume una rilevanza strategica globale, in quanto il Vietnam del nord viene sostenuto militarmente da Unione Sovietica e Cina. Il conflitto, che si trascinerà fino alla vittoria del Vietnam del nord nel 1975, rappresenta una delle guerre più lunghe e drammatiche nella storia statunitense, che vedrà tra le sue conseguenze anche la nascita di movimenti di opposizione al conflitto in tutto l'Occidente. Nel frattempo tra il 1963 e il 1964 si verifica un nuovo cambio di leadership ai vertici sia degli Stati Uniti sia dell'Unione Sovietica. Kennedy viene assassinato il 22 novembre del 1963 mentre Khrushchev è costretto a dimettersi per lasciare il posto a una dirigenza collegiale da cui successivamente emergerà come leader Leonid Brezhnev. Il cambiamento di leadership in Unione Sovietica è spinto dalla volontà della classe dirigente di proseguire nella politica della coesistenza pacifica con il blocco occidentale, ma allo stesso tempo di usare una maggiore cautela in politica estera cercando di ricucire i rapporti con la Cina. Nonostante questi propositi, il 20 agosto del 1968 i vertici sovietici decidono nuovamente per un intervento militare in un paese alleato, questa volta in Cecoslovacchia, al fine di reprimere l'esperimento riformatore della cosiddetta Primavera di Praga del leader Alexander Dubček, esperimento che avviato il 5 gennaio dello stesso anno stava mettendo apertamente in discussione il modello comunista. La fase di distensione tra i due blocchi sul tema degli armamenti ha il suo culmine nel 1972, con la firma degli accordi SALT, S-A-L-T, cioè Strategic Arms Limitation Talks, seguiti da un accordo commerciale tra Russia e Stati Uniti. Ricordiamo che i leader di Russia e Stati Uniti in quel momento sono rispettivamente Leonid Brezhnev e Richard Nixon. Parallelamente gli Stati Uniti portano avanti una politica di avvicinamento alla Cina segnata dal viaggio di Nixon a Pechino nel 1972 e dal tacito assenso all'assegnazione alla Repubblica Popolare Cinese di un seggio permanente all'ONU. La politica di dialogo tra Cina e Stati Uniti costituisce un elemento di pressione nei confronti della Russia e porta un bilanciamento del suo potere in Asia. La situazione si fa nuovamente critica nel 1973 a causa della guerra del Kippur, che contrappone a una coalizione di Stati Arabi guidata dall'Egitto e appoggiata dall'Unione Sovietica a Israele, appoggiata invece dagli Stati Uniti. Questo conflitto porta nuovamente Stati Uniti e Unione Sovietica a fronteggiarsi indirettamente, rifornendo gli armamenti i loro alleati nella regione e innalzando pericolosamente il livello di allerta nucleare. Nello stesso periodo i negoziati per la limitazione degli armamenti attraversano una fase di stallo, soprattutto a causa dell'opposizione interna al presidente Ford, il cui comportamento è giudicato troppo morbido nei confronti dei sovietici. A complicare la situazione contribuiscono varie crisi a livello internazionale, dalla vittoria dei sandinisti in Nicaragua, alla crisi degli ostaggi dell'ambasciata americana in Iran, fino all'intervento sovietico in Afghanistan. La tensione tra i due blocchi riprende così a crescere, alimentata anche dalla politica del nuovo presidente americano Ronald Reagan, in carica dal 1981 al 1989, che si caratterizza per una contrapposizione totale al comunismo. L'amministrazione Reagan sosterrà infatti le forze anticomuniste in ogni parte del mondo e aumenterà sostanzialmente la spesa in armamenti, finanziando il posizionamento di missili nucleari in Europa e il progetto di difesa strategica conosciuto come scudo spaziale. L'Unione Sovietica è invece molto provata. La sua economia si trova in una fase di stagnazione e gli stati satellite manifestano un crescente malcontento. Ricordiamo in particolare la nascita del sindacato Solidarnosc in Polonia, organizzazione di matrice cattolica e anticomunista, il cui leader, Lek Valesa, otterrà il premio Nobel per la pace nel 1983 e sarà presidente della Repubblica dal 1990 al 1995. Nel 1985, con l'elezione di Mikhail Gorbachev a nuovo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, la politica sovietica cambia profondamente. Il progetto di Gorbachev si fonda su due parole chiave. Perestroika, che riguarda una serie di riforme volte al risanamento economico del paese è Glasnost, termine che significa trasparenza e che mira a promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica del paese. A partire da questi principi, Gorbachev cerca di ridurre le tensioni con gli Stati Uniti prendendo l'iniziativa e annunciando unilateralmente una sospensione dei test nucleari. Le due potenze giungono così a un accordo che prevede la rimozione dei missili a media gittata, una riduzione da parte dell'Unione Sovietica delle proprie forze armate e il ritiro delle proprie truppe dall'Afghanistan. Allo stesso tempo, la politica riformista di Gorbachev viene abbracciata anche da alcuni stati satellite come la Polonia e l'Ungheria. Quest'ultima, nel 1989, apre le frontiere con l'Austria accelerando così il processo che porterà alla dissoluzione di altri regimi comunisti nella regione e nel 1989 alla caduta del muro di Berlino. Il 26 dicembre del 1991 anche l'Unione Sovietica cesserà definitivamente di esistere mettendo di fatto fine alla guerra fredda.